Potrebbe riaprire alla fine del mese di gennaio 2018 la statale 626D, ridicata Torrente Brahemi, che collega la città marinara con l'entroterra siciliano, interrotta dal luglio del 2014 a seguito del crollo del viadotto Petrulla. Lo ha annunciato Carmelo Pullara, neoeletto deputato autonomista all'Ars. In questi giorni, infatti, è stata completata la gettata del calcestruzzo sulle travi in acciaio che sono state sistemate sul posto e adesso resta soltanto di asfaltare il tratto stradale compreso tra le tre campate che sono state demolite. Oltre a quelle cedute il 14 luglio del 2014, l'ANAS è infatti ritenuto opportuno demolirne altre due che erano pericolanti. Oltre all'onorevole Pullara, l'ex consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Federico, la vicenda del viadotto Petrulla è stata tensionata dall'onorevole Giussi Savarino, deputata regionale di Diventerà Bellissima. L'onorevole Savarino ha parlato di viabilità nella Grigendino e soprattutto delle criticità in un focus con il direttore regionale di ANAS Valerio Mele. Per quanto con genere il viadotto Petrulla, il cui crollo isola ricatta da quasi quattro anni, dice l'onorevole di Ravanusa, l'originario progetto è stato rivisto in corso d'opera perché oltre la dodicesima campata collassata si sono dovute demolire e ricostruire anche la decima e la undicesima in quanto presentavano livelli di degrado strutturale grave. Ad oggi sono state realizzate le campate metalliche di tutte e tre le campate, la casseratura e l'armatura della Soletta. è stata sollecitata ottenermente la ditta appaltatrice e aggiunge il deputato regionale per completare il getto della Soletta e fin qui ci siamo seguiranno come da prassi i 28 giorni per la maturazione del cacciestruzzo e nel frattempo si procederà alla realizzazione della impermeabilizzazione e pavimentazione delle barriere. In questo modo ritiene l'ANAS che ragionalmente i lavori possano essere completati entro fine anno per poter essere riaperti al traffico entro gennaio. Per eventuali ritardi alla ditta già sollecitata saranno applicate le penali. Quindi i tempi sono abbastanza celeri per il ripristino della strada di collegamento tra Licata e l'entroterra siciliano. L'impresa ha provveduto a eseguire la manutenzione straordinaria delle altre campate del viadotto crollato il 7 luglio del 2014, mentre per quanto riguarda le campate 11 e 12 bisognava intervenire per la demolizione, non c'era la possibilità di recuperarle. Poi sono state abbattute le barriere positive, successivamente a finire giù sono stati i piloni che sostengono il ponte. Dunque l'intervento di ristrutturazione sul viadotto della Licata-Torrente-Bremi prosegue, ma è chiaro che i tempi per la consegna e la riapertura della strada ormai sono prossimi.